Tra le gare più interessanti della giornata odierna nel girone B di prima categoria figura anche quella che si gioca a Selva di Altino e che mette di fronte i padroni di casa dello Sporting al Perano. Si tratta di una sfida interessante per diverse motivazioni, tra queste la vicinanza geografica dei due centri con lo Sporting che è stato ospitato spesso anche in questa stagione nell'impianto peranese prima del definitivo rientro nel proprio Fortino. La situazione di classifica al contrario è abbastanza discordante con i biancoverdi del presidente Cinquina che rimangono l'ultimo baluardo a contrasto della battistrada San Vito 83 mentre i gialloverdi peranesi sono chiamati ad un finale di stagione altisonante per centrare l'obiettivo prefissato della salvezza diretta. I locali iniziano subito in avanti con lo spiovente da fermo dell'ex di turno Pasquini che Pescalusi, la cui inzuccata ravvicinata, non crea grossi patemi all'attento d'amico. Un minuto dopo Mainella cerca la soluzione dal vertice d'area ampiamente fuori misura. Biancoverdi ancora rembanti nelle fasi successive dapprima con il tentativo di Palombella di Pasquini da distanza siderale che si spegne sul fondo e successivamente con il nuovo tentativo di Mainella stavolta con una mezza rovesciata dal limite ma anche stavolta i risultati non sono degni di nota. Pur con un discreto predominio territoriale lo Sporting non corre rischi ma non crea neanche pericoli degni di tale nome per la porta difesa da D'Amico che al 35esimo blocca in scioltezza la conclusione telefonata di Codagnone. Al riavvio dei giochi il Perano giustifica la sua presenza in campo con il tentativo di Fortunio tutt'altro che velleitario con Mainardi che rimane ancora spettatore non pagante della sfida. Non va molto meglio sull'altro versante a Pasquini con D'Amico che accompagna la sfera a spegnersi sul fondo. Di Polito cerca di farsi spazio in zona d'attacco ma nessun problema di rilievo per l'estremo di casa. Il nove peranese prova più tardi a sfondare dalla sinistra ma pecca di egoismo e preferisce calciare dal fondo indirizzando sull'esterno della rete. La gara che non è l'ideale per gli amanti del bel gioco si accende improvvisamente all'undicesimo quando Pasquini va a segno con un destro di prima intenzione che rimbalza beffardamente davanti a D'Amico scavalcato dalla sfera che va a spegnersi in fondo al sacco certificando il vantaggio della vice capolista del raggruppamento. Il perano non riesce a rialzarsi e lo sporting prosegue negli affondi in area ospite anche se non vi saranno ulteriori deflagrazioni. Al ventesimo Mainella spedisce alle ortiche dal vertice d'area prima della mezz'ora tocca ancora Pasquini che scaraventa al lato. Il numero otto locale va a caccia del bispersonale anche al trentaseghiesimo ottimamente servito da Zecti viene a trovarsi praticamente indisturbato davanti a D'Amico ma la sua conclusione termina clamorosamente a fondo campo. Al quarantunesimo Mustafasi dirige in area dalla corsia sinistra e con estremo altruismo preferisce assecondare l'irruzione di Mainella fermato dall'intervento decisivo di D'Amico che limita i danni. Il perano si fa vedere all'altezza del triplice fischio ma il tentativo di Fontana è lo specchio fedele di una gara assolutamente inoperosa per i due portieri salvo qualche rara eccezione. Prima del triplice fischio segnaliamo l'occasione sciupata dal neo entrato Chiarini che scatta in contropiede col perano riversato in massa nell'area altinese ma la finalizzazione non è adeguata anche se può bastare così i tre punti vanno alla truppa del presidente Cinquina che continua la rincorsa alla battistrada San Vito 83. Siamo qui con il presidente del perano calcio Leonardo D'Alonzo però oggi per voi è arrivata una sconfitta diciamo che è stata un po' meritata perché effettivamente voi non avete mai calciato in porta verso gli avversari e non vi siete mai resi pericolosi. Allora, per quanto riguarda la nostra pericolosità sono d'accordo perché effettivamente Mainardi in 90 minuti non ha avuto grossi impedimenti abbiamo avuto solo un'occasione con un tiro laterale di Di Polito nel suo secondo tempo però c'è anche la dita che anche il nostro portiere a parte il gol preso da Pasquini che ha fatto anche un grande gol alla distanza è stato impegnato solo verso il finale di partita con un contropiede di Mainella quindi anche il nostro portiere è stato inoperoso. Però oggi si è vista la solidità dell'altino diciamo che ha confermato il light motive del campionato è stata una squadra coriacea che ha sfruttato l'episodio a favore peraltro è iniziato probabilmente mi dicevano in panchina non ho visto su una palla che era uscita sul laterale però ripeto questi sono dettagli che trovano lasciano il tempo che trovano noi probabilmente proviamo ad essere un po' più cinici sotto porta nel secondo tempo anche se abbiamo fatto una pressione non fortissima non è facile giocare contro una squadra fisica come l'altino che dietro sono molto soliti quindi il risultato ci può stare tranquillamente. Comunque come dice lei da parte il risultato la prestazione da parte dei suoi ragazzi comunque c'è stata sono stata una squadra comunque combattiva che ha reso difficile la vittoria a una squadra non è corazzata come l'altino quindi comunque c'è del buono al di là del risultato. Sì sì assolutamente mi ha fatto un applauso sia al mister per come ha messo in campo la squadra assolutamente non mai rinuncia ad aria forse abbiamo giocato meglio nel primo tempo con alcune azioni manovrate bene ripeto è mancato lo spunto finale Altino non a caso credo sia la miglior difesa di quattro giro in prima categoria e l'ha confermato sono molto bravi se sono quali alte quindi una volta che hanno trovato il gol si sono arroccati molto bene dietro si sono abbassati un buon 20-30 metri però addirittura anche la loro punta Menella è andato a dare manforte ai centrali quindi una volta che lanciavamo anche in profondità avevano le giuste mosse per controbattere però una sconfitta che ci sta tutta assolutamente adesso noi abbiamo un match importante domenica prossima contro il Guardia Grele che per noi è una partita di vitale importanza ci troviamo delle nostre mura speriamo che ci sia un grosso seguito di pubblico esattamente come domenica scorsa con la Dinamo e adesso ci rimbocchiamo le mani che in settimana sicuramente il mister troverà le giuste motivazioni per la prossima gara Come diceva lei la prossima partita sarà importantissima soprattutto per il raggiungimento del vostro obiettivo che è quello della salvezza senza passare per i playoff cosa si sente dire ai suoi ragazzi proprio per spronarli a raggiungere questo obiettivo? Allora come ho detto anche magari in altre interviste è stato un anno questa è un'annata veramente particolare un'annata dove si sono creati delle problematiche a livello di infortunio sin dalla prima giornata e anche magari dei rinforzi che abbiamo preso a loro volta hanno avuto problemi per cui è un'annata che come si dice bisogna cercare di affrontarla una settimana per volta in base alle condizioni fisiche di ogni singolo giocatore l'unica cosa che mi sento di dire è di continuare sull'unica strada che conosciamo quella del lavoro, dell'intensità di seguire il diktat del nostro allenatore che è fondamentale perché solo col lavoro sul campo all'allenamento si può preparare bene la partita della domenica la vittoria si costruisce della settimana non ci sono altre scusate siamo qui con Pasquini Emilio capitano e giocatore dello Sporting Altino però oggi grazie a un suo gol la sua squadra è riuscita a portare a casa un risultato importantissimo si, era una partita difficile che sapevamo dall'inizio e fortunatamente abbiamo portato dalla nostra parte con un gol mio ok però il capitano resta Nicola Carunto che è un grande giocatore che oggi ci mancava sapevamo che Perano veniva qui a fare una partita di spessore e così è stato complimenti a loro però noi dobbiamo andare per la nostra strada e dobbiamo riuscire a fare più punti possibili da ora alla fine campionata il risultato comunque vi dà ragione per quello che si è visto in campo diciamo che gli avversari non si sono mai resi pericolosi nella porta del vostro portiere e anche nel primo tempo voi non siete stati incisivi come avreste dovuto esserlo per fortuna che con il suo gol lì siete riusciti a sbloccare la partita sì il primo tempo è stato diciamo un po' di studio da un delle parti è stata una partita giocata a centrocampo maschia con poche occasioni non riuscivamo a fare il nostro gioco o perlomeno quello che volevamo il secondo tempo ci siamo riusciti un po' di più fortunatamente abbiamo trovato il gol dopo il gol potevamo fare molti più gol da come si potranno vedere dalle immagini abbiamo dovuto soffrire fino alla fine ma siamo così siamo una squadra che fa soffrire fino alla fine questa è una vittoria importantissima per rimanere agganciate alla prima della classe che era il San Vito e vi permette comunque di mantenere la seconda posizione sì il San Vito no non ci pensiamo diciamo la verità facciamo il nostro campionato facciamo da ora alla fine più punti possibili a fine campionato tiriamo le somme che cosa si sente dire ai suoi compagni per il proseguo del campionato? niente perché siamo un gruppo fantastico siamo uniti e dobbiamo andare avanti così